Ciao Cristiano! Ciao! Allora? Cosa allora? Dove siamo? A Gussago? Gussago e dov'è? E' vicino a Brescia, in provincia di Brescia. E che ci fai qui? Sorpresa! Non ci spoileri niente? Va bene, ci riproviamo dopo. Allora Cristiano, ci spoileri? Bene, siamo arrivati al campo e oggi farò un allenamento con il grande, famosissimo Gunter Celli. Wow! Non sapete chi è? E' un campione di freestyle, ha vinto due campionati italiani, un campionato europeo e è arrivato al quarto di finale del campionato del mondo, di freestyle ovviamente. Wow! Ci fai vedere? Sì! Pronti? Wow! Che figo! Sei emozionato un po', Cristiano? Sì!